Gli imputati e gli indagati in questo processo hanno il diritto della presunzione di innocenza a pieno, quindi le nostre sono semplicemente ipotesi investigative su cui io chiederei la possibilità di potermi fino a un certo punto soffermare. Io vorrei cercare di parlare dei fatti, perché esistono fatti incontestati, fatti storici. Ovviamente le responsabilità personali e le responsabilità penali poi saranno oggetto di un accertamento diverso. E voglio aggiungere, perché in questi giorni si è molto parlato del tema dei mandanti, del tema dei registi esterni, che io condivido integralmente quello che ha detto il Procuratore nazionale sul fatto che i numeri di questa vicenda lasciano pensare che ci sia altro. Anzi, mi permetto di dire che i numeri che darò sono molto più preoccupanti di quelli ad oggi emersi. Sono numeri che inquietano, perché sono davvero mostruosi. Ma detto questo, però, il mio compito è individuare responsabilità penali. I sospetti, le illazioni possono essere un punto di partenza utilissimo per sviluppare, diciamo, anche tesi investigative. Ma il mio compito sarà quello di individuare, il nostro compito sarà quello di individuare le responsabilità penali. Noi ci stiamo lavorando. Noi ci stiamo lavorando.